benvenuti in un nuovo video mamma mia raga voi non avete idea da quanto tempo cioè infatti abbiamo guardato pure la gustazione del telo tutto ragazzi siamo veramente da un'ora solo per organizzarci perché non si vedeva la stadia un po' un chaos però oggi siamo qui per aprire penso che sia l'ultimo calendario dell'avvento che avremo quest'anno io piango ma sto parlando il calendario dell'avvento di Degusta Box ovviamente Degusta Box non mi ha inviato il calendario ma l'ho acquistato io l'ho pagato 38 39 euro adesso non ricordo c'è raga è enorme c'è raga veramente forse non rende ma è enorme cioè pensate che tutto lo sfondo si è preso praticamente quindi speriamo di riuscire a far vedere tutto e comunque vi dico già che se tutto va bene quindi mi regolo un po' comunque i prodotti comunque ci sono all'interno farò sicuramente una ventiquattro ore quindi aspettatevi una bella ventiquattro ore io direi di iniziare tu aprirai questa parte veramente sempre andando in ordine e io aprirò quest'altra parte ok e vai a te l'odore, casella numero 1 ok ma raga io sono troppo curiosa attenta a non aprire ok tutta questa che cosa è l'odore, casella numero 2 e raga sono enormi le caselle oh questa pasta che melhorate allora qui pasta toscana 100% grano tra il grano toscano no vabbè adoro eccole qua io spero che ci sta vedendo qualcosa La proveremo insieme Il numero 2 tocca sempre a te Vabbè, questo sto qua, puoi anche farlo Sì, sì No, no, vado scomoda, vai Ok, quindi è questo Il numero 2 Era un di prima Aspetta Oh, che cos'è? È un prodotto nuovo No, vabbè Ma è vero Calvè, maionese al peperosa Ed anche vegetariana Bellissima Ma qui? Sono contenta Sì, è bellissima Numero 3 tocca sempre a te Wow, eh Quattro stallati di fuori Comunque io già mi sto innamorando Ok, numero 3 Mi piaceva una bella Sì, sì Che cosa è? Crema di cipolle rosse Cosa è? Gustosio Oppure gustosio Gustosio Eccola qua O gustosio, eh Perché non c'è niente gustosio Ma vabbè, ma che bella Bella Ok, cacca a me Numero 4 Dove sei? Grazie Ok, aspettate Oh Oh, cosa c'è? C'è un po' No, no No, no Sono tre Ok Ok Sono tre, sono dei lenticchie al peperoncino Sono tostate, sono tipo quei snack da sgranocchiare Nella pedon Sono le lenticchie al peperoncino Ce ne ce ne sono due E quest'altro qui invece è edamame Edamame Semi di girasole con zenzero Comunque sono tassati Sono cose molto particolari Sì Sono molto belle Eccoli qua Non so Eh vabbè Adesso come snack Faccio Oddio che bello Grazie i soldi Sì 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 Bene Già vi dico che ci saranno No, da parte Tutti gli anni, eh Se lo farà io ho acquistato Ah sì sì Ok 5 Vai Ma perché io non vi è dominato? Qui vuoi esponermi? Qui vuoi esponermi? 5 5 Ehi 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 Una cosa di cartone Sì Infatti Magari Eccolo ho E' una Realtio 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 Detox numero 1 E perde Menta fino a più Perizia e talassavo Con ortica e aleovena Bella Questa è una buona Oddio come profuma Non l'ho fatta vedere però Molto profumata Sì Questa è bella detox Sì sì Eccola Qui ho No ragazzi questo color È troppo troppo bello Questa la provvedì un pochino Eh beh sì Quello sì Ok Numero 6 Tocca sempre a te E' enorme Il 7 sta lì Ok Dove sta? Eccola qua Questa è una bottiglia di pomodoro Guarda qua Oddio Comunque questa è una bella idea il regalo Si Costa Invece 8 euro Si Invece di questo Noi qua comunque siamo parecisti Si Ci sto pensando Nella prossima Bellissima Della multi Passata 100% Pomodoro italiano Bella Qua No vabbè ma è innamorata Ok Finalmente 7 Tocca a me Si Eccola qua Anche la 8 cara Oh Che cos'è? Sono Pandolcino Antica Genova Sono dei cookies Si Con cosa? Orlando Grondona Non mi hai sentito bravissima No sono parti cercati Cioè Grondona Comunque eccoli qua sono Penso dei cookies Si No non sta scritto Non lo sai Vabbè siano Sono biscotti comunque Quelli qua Infatti sono macchie che non Ma pure la pasta Noi ci siamo Sembra di no Ok E' un po' dolce Di pasta frolla Con ruota Ok Ti piacerà tantissimo quindi Te lo consiglio con il 8 Allora Noi ci siamo In basso lì Ok raga All'alto Sono vicino alle mie gambe E questa è Oh Corrone Antica dolceria Pazza Basta poco per renderti dolce la vita Per noi è piacere adorarti il buon Natale Cioccolato di Modica Cioccolato di Modica Il GP No Vabbè No ma è bellissimo Questo deve essere Per il cioccolato Buonanente Sì Adoro Veramente è bello Mi piace questa cosa che trovi anche tipo questa cartolina dentro Bello Selezionate Non scontate messe così Infatti sì Ok Facci caso Segue tutto un criterio Sì Ti ha messo la pasta Quella maionese E poi dopo ti ha messo tipo quella cosa detox per dir E posando Ok Ok 8 9 9 9 9 9 9 9 Oh Castagne snack Coste a bavore Cazi a bavore Naturali a bavore Io Prego Io adoro le castagne Eccolo qui Comunque per il momento ce ne vale Forza Ecco le qua Ok Vieni sono 26 ce l'ho io questa puremmo non abbiamo sfumato attenta che cos'è il insaporatore per agnello alla griglia rosto questo qui lo useremo in una bellissima 24 ore che non so se già dall'uscita però adoro quattro porzioni vabbè carrile di agnello vabbè spiega tutto comunque mi spiega pure sopra come metterlo chiedo come se fosse pure un'imparatura e perché guarda come lo mette no vabbè dovrò preparazione 15 minuti a cottura 15 minuti vabbè lo vedremo nel dettaglio mai visto nei suoi mercati qua si una miscela di spezie con sale marino per me possiamo prenderci pure tutto l'autunno penso che l'undici ce l'ho molto piacevole si bello è uno di quei ce l'ho io è uno di quei calendari che secondo me anche ogni giorno resti si è vero da prenderlo tutti i giorni ok l'undici e così dovrebbe scusate non è uno di quei calendari che devi trovare pistacchio liquore dolce no vabbè chi si vuole a me da 24 ore guarda il fine che c'è l'olio l'olio no vabbè bello bella che chic bello particolare bello mi piace tantissimo ok raga questo è un bel picchino nelle 24 ore ci sono state tutta volta solo ci sono un po' ok 12 perché diciamo che è insieme? è 9 è 9 come l'uno no raga riterai riterai come la manca ma ve lo vedrai qualche cosa c'è con la cacata aspetta cerca di riterai no riterai no no lo ha che era ancora tuo ma neanche questo lo ah mi lasciamo tutto giro il mio tutto giro il mio snowflix bello mi visti neanche io infatti si è scritto sono dei biscotti con tutto ovviamente io faccio la frolla però si secondo me si eccolo qua no vabbè io sono troppo felice ok penso che sia tra tutto comunque l'altro calendario ovviamente non si possono paragonare no vabbè sono due generi diversi si sono due generi diversi però è quella cosa che a ogni casero rimane oh mio dio che bello bello veramente 13 sempre tu sempre io dove? ah e poi qui e poi ecco perché è molto grande ed è così lì oh oh il vetro che cos'è? sembra caffè però non lo so non so se ho visto bene eeeh caffè caffè ah ma c'è un bel caffè bel caffè non lì non lì non lì non lì un polvere c'è una bella lacchietta ah è così ok ok, Vida Battistino io marchio non so, caffè d'agricoltura biologica ma come è bello questo bimbo? con la che? questo colazione si, poi lei ok, quattordici e quindici sono vicino che bella grande guarda qua oddio sai che sto vedendo? questa box è incentrata, devo dire che sta molto sul bio ci sono tanti prodotti novità, quadri al cioccolato fondente manco questo no, oreo lo sai ma scusatemi ragazzi sto troppo felice quando sono felice bello 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 vado ad aprire la numero 15 un pire di incacrena un pire di incacrena un pire grande si sta presa vai, mi sta cadendo qualcosa guarda cosa senti no vabbè no, chiudi e vabbè chiudi, hai visto? no, non ho capito cos'era preparato per dolci senza glutine molino filippini ci sono pure le ricette dietro una ricetta c'è una farina è un bel po' di materiale eccola qua ecco 16 non ce l'ho sempre in basso lì piccolina 17 ragazzi a casa dopo andiamo ad aprire la 15 ok un'altra pasta ho le stagioni d'italia la pasta ben dedicata mi sembra... eccola qui belle queste confezioni ok ragazzi 17 15 giusto? lenticchie come la rossa poliziere di capodanno lenticchie rosse un po' qua ok ok sono sempre prodotti bio 100% 18 18 18 non posso immaginare cosa 20 che c'è cosa si fa? e qui è la 24 è più grande è più grande concentrato di pomodoro multi ci sta ma poi sono tutte full size triplo concentrato di pomodoro multi ok ok 19 e ci avviciniamo enorme comunque guarda 19 ha tentato spoilerarci la 24 lei che sta cos'è? non ho capito olio la birra ma non ho capito ma non ho capito ma non ho capito non ho capito no vi rificio angelo guetti e forse lo sai perchè perciò ho stato chiuso così quando ti arriva sta così per proteggere mi ha visto come dopo no raga bellissima ok sono troppo contenta di questo bella no pure io perchè? potremmelo fare per due o tre versioni perchè ovviamente aspetta ma questa qua è io non l'ho mai vista neanche qui stagionali la milizia del settembre ma io la milizia non l'ho visto? 20 ce l'ho io eccola qui la numero 20 ok no pasta di acciughe allora questa partiamo ragazzi no però si però mio padre sarà molto molto felice angelo parodi e mio frate sai che mi sembra il dentifricio no lo sfondo giallo le scritte così il coso della strega no proprio la strega la strega si eccolo qua ma poi sarà molto 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 di maschina del liquore ok 20 21 tu? perchè qui ho solo il 24 quindi io guarderò ti piaceranno? mi piacevano mi piacevano al caramello? si al caramello? al caramello? bio bio 27 mi sono innamorata proprio 21 21 21 22 ma devi aprire 22 eccola qua 24 24 io non lo so vabbè ti apriamo ancora il 23 il 24 23 ah mamma mia 23 23 ah lo smalorano mamma mia lo smalorano il qualche crema smalmabile che cos'è? sì con il riso senza latte sì con il riso senza latte crema smalmabile con riso non ciò e cacao eh no la ngella l'ha fatta una volta così l'ha fatta pure così ma questo formato qua ma questo formato qua mamma mia sì con il riso stai insolettosio ok 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 posalo prima che forse le emozioni a vedere il 24 e lo fai capire grazie accingiamo ad aprire l'ultima casella che è il 24 non guardiamo io voglio tirare fuori che cos'è? allora sono molto particolari laika sono dei cioccolatini al peperoncino cannella e arancia particolari chissà come si fa ma no stanno pure al pissacchio te ne metta al pissacchio però allora ma mi aspettavo qualcosina in più per il 24 sicuro io ma mi aspettavo un pandorino piccolina ma cosa però io lo sai però però no no assolutamente cioè ne vale la pena raga perché comunque se vi fate un po' il conto comunque questi prodotti potete acquistare sicuramente già si sa di prodotti bio comunque potete acquistare comunque singolarmente anche al supermercato ma non ce la fate con 40 euro ma si si potete stare anche sul sito di The Gussapox non lo so perché The Gussapox ci sono le 24 ore in cui proveremo tutti 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 ci sta ci sta dove ci accolizziamo un po' è il bel materiale rispossibile ok e speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciateci un pollice in su solo per tutto il caos che abbiamo creato tutti gli spossamenti mamma mia e quindi niente speriamo quindi che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao